se il problema è il modem sono te no non è il modem è proprio non c'è la connessione ah nel modem è la tua coglionaggine è il maltempo ah è il maltempo da me porco dio sta nevicando ma di spesso sta nevicati non vedi la neve da mai vabbè comunque diluvia c'ho una di origine napoletane con me ha visto un po' di picca di neve ha detto ma che cos'è sta cosa non lo mai chiesto spiegare un po' tu a questo beer chi è beers chi è beers anche i beers ci sono la birra porco dio chi è beers lì il beers ah quello che c'è agli astros che li sta anche difendendo i stream da mirko cash one what hai capito bene no male non mi toccare falla non va bene non va bene da mirko non ci credo no 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 mirko ti è attaccata che 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 mi amico offendeva e bias ma cacciate lo falla con relativa bestemmia ma fare uno scarso di merda devo ammazzarlo più o meno è tutto msnmr cash one mada faka quando ti pare il nuovo nuovo di ricordati 1v1 quando ti pare ti aspetta il mio campo bitch no no aspetta non la ricordo questa citazione chi sa di chi era era una battaglia su twitter che non mi sbaglio no non era una battaglia su twitter no no tra b e t giusto mi sfugge ti mi sfugge ti bisì bisì chi è che abito tqm tqm vabbè mettete pronto cercate raggio a b c c c c c c c c c e da lui da lui lo ripresa la città infatti comunque c'è dire che il mio loro preferito e mettono comunque mi arrivano suggerimenti fradio stai zitto un po grazie ma se dovessi andare a fare la cacca? stai zitto e gioca la fai dentro giochi? mi vado a prendere una busta della minnezza ci vai con bias? ma perchè? match up non adesso stanno cercando oppure no? fra rosa infatti perché se n'è andato che ci faceva da tramite non lo capisco non può manco sto parire è andato la cacca quello per forza non dobbiamo lanciare mai in contropiede per forza di cosa lo so ci hanno chiuso si ci hanno chiuso solo se proprio nel ali se il contropiede lancia ma a me non mi è mai capitato l'ha detto un minuto eh vabbè aspetteremo un minuto c'è un'ora per fare una partita ci dobbiamo essere qui pensa se devi fare alle medie delle 5 la coppa c'è non ci arrivi più sicuramente cosa vuole? ma loro? ma l'anticipaliteggio? si a qualcuno non se non scrive ma comunque ho semifinale al miglio delle 5 no eh ma pala fa cagare quando giochi stai tranquillo poi parte la dosa ariel c'hai cartellina di difesa vero? mi ripeti Fla? non senti? no zitta un attimo falla zitta un attimo c'hai cartella di difesa perchè c'è eh c'è Cecco adesso eh porca trovi tardi come c'è Cecco? vabbè io ce l'avevo i cartellini io ce li ho però comunque c'è più o meno ce l'ho eh vabbè c'è Cecco? si mi hai detto fraga c'è Cecco il Giovano Normani mhm il biglietto c'è l'om? più risbordato di nuovo in trasferta eh sì ah c'è Cecco da centro ah c'è Cecco da centro e allora niente non cambia niente ragazzi chi si mette in angolo Fierro o Locke? forse Locke Locke mi sa che sta su sì sei te Flasmo a 45 ci sto io eh ma non sta dal lato tuo prendilo tu se pari eh ok ok sta bene così eh eh ho cercato dopo loro eh vabbè non fa niente dai che cazzo ah non fa niente dire dai 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 fuori oh rilasci che è in anticipo no ho perso oh rilasci che cazzo cioè no eh oh dai grazie tenuto a retina lascialo da te non la media ehi guarda me a me bravo, bella palla bravo c'è l'arto appoggia a lui no fai fallo fai fallo è tardo c'è l'arto ci arrivi? si bravo vi eravate messi tutti lì tu falla appunto l'ho chiamato infatti stavo cercando un in punta non c'era nessuno col blocco forte non andare mai dentro che l'oro tendo l'arto tende a salire io c'ho un roll dobbiamo bella bravo la deviato l'avrò toccato dai blocca il palleggio ok bravo bravo ottimo ottimo fuori franni non è Flavio però non fate andare in palzo i vostri bravo 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 vado a destra alza dai io già sei a due arco legge a te una puttana raga fuori calmo 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 ok c'è l'altro centro ruba uuuh tu fuori 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 vai in bonus cazzo non mi ricordo il libero che c'è aspetta te lo dico io fermo c'è gairi si c'è gairi oddio dei libri tua annaccia mi sono bloccato ho provato a scalare ma non ce l'ho fatto non tira piuttosto non tira va astarto sei a tre voglio vedere fin quando continui lascialo uscire si ok no ce l'avevi mamma è meglio la finta ehm si ce l'avevo però non l'ho vista dopo l'animazione giusta ma non mi sembrava un buonalli non sono bloccato ok ce l'avevo nuova tu ha non va bene non l'ho toccato oh 4 e 5 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 però ali non c'è fretta di attaccare bravo bello schemiettino bello schemiettino buono 2 2 no no 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 5 6 6 6 no non c'ero ok ok no pensavo ci ritornarsi di lato potevi ancora rimanerci perché tanto mi era dietro ancora di me scusa se mi dice taglia a me non taglia a tu eh perché l'ho sentito dopo bravissimo Flavie vede che giochi 3-3 con il bestedario lascia 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 eh si è stata una finta eh ho capito ma di là ti ero eh ma è come il G7 ricordati a caso quindi anche se hanno le tocchi da farlo eh bravo Marco si però che palle dopo l'op appena finisce l'op fai un colpo di saltello eh si come prima gli ho dato fallo no non tirarla si dai su io se la volevo il posto però mi accontento esci fuori dai non lanciò non lanciò non c'è quello di aria buono sale un attimo bravo eh 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 vero no niente tu madonna è schifo Oh, ce l'avevi. Ah, dopo ce l'avevi. Ariel? Sì? Bella pure questa. Arto è andata a chiudere a me, grazie. No, non pensavo lo portasse così. Scusate. Non pensavo lo portasse proprio sul difensore. Ok, però calmo. Io cavo il tempo. Cioè bisogna ricorrere. Vai adesso. Ti piace lo stesso blocchetto Marco Lì? Non ti giuro, non ti giuro. Quattro secondi. Ma hai rubato un altro MVP della metà gara? Ma che è la sua storia? Ma ce li mangiamo, ce li mangiamo. E' buona, è buona, è buona. Quarto di arto. Stava a try and è il difensore? Prestava il difensore, ma? Non mi ricordo. Dalla rimessa non mi sembra. Il difensore è loro, pressa ancora alto? Eh, non mi pare, dalla rimessa non mi pare. Ok, ok. No, perché sta a quarto arto, quindi. Qua. Lunga. Beh. No, andiamo, 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 andiamo. Allora, andiamo, andiamo. Allora. Va bene, torna. Sì. Così si riprende, però, fra. Ah, no, stai troppo lontano. Ma che cazzo devo fare? Niente, niente. Va un po' crampato stasera. Salta. Sì, 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 bravissimi. Bravi tutti e due. Ma è sinistra? No. Bravo. Sì. Comunque, Marco, iniziazione. Io sto libero dalla punta. Lo so perso. Ah. Sì. Sì. Vai. Ti va da tre. Ti va da tre. Ok. Ok. vado a destra bravissimi tutti tanni aria e a caso così a caso vedi perché vedi perché sapeva già lui sapeva già la sfada di tre secondi non esistono questa è pari rubata lo dico già ne è vero e invece e sei già mal crowford ce la fai? si bravi? è concentrato è concentrato si sente cambia chi c'ha il mio non lo so vedi tipo in questo caso vedi no ma non lo può prendere mai così c'è l'altro non lo posso prendere perché ti blocca quello l'animazione no ero qua grazie eh scusa abbiamo ancora visto eh no fa niente bene 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 grigia prendere corner lì eh ci ho pensato dopo vai ce la fai scusami l'ho chiamata e l'ho fatto no no vieni qua faccio il film da blocca quello non so come 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 ecco come ma guarda che fiero dorme dorme dove sto io mai vai guarda che altro vuoi capire perché ogni volta su quel passaggio metti pallà a terra Giovanni, io ho tirato non mi ha preso il tiro, me l'ha preso dopo dopo questo lo voglio capire eh ma perché io mi so palla a terra? se ci hai fatto a caso ti ha messo palla a terra e poi ha tirato l'ho visto, non so è troppo bravo bravo, eh che curo ma io posso anche tagliare il mio dorn bravo bravo tiro da tre e si, dopo mezz'ora è uscito il BR il carto senza stamina sai che se non ritornavi indietro c'è il mismatch il carto non so difende sul non schiaccia l'unico peni cieco è che non schiaccia no si? come no? sti cazzi come fai a essere no? eh l'animazione non mi sembrava mica mica zio fuori guarda che rinvazzo che sfiga di merda che c'ho eh guarda che rinvazzo di merda è un atto bianco però di tato bianco ma vaffanculo eh è ovvio mi sei iettato da solo non mi aspettavo oddio vado a destra vado a destra Ariel ma vado a diritto un paio che la sole è peggio sfardo che c'hai il centro che vuoi fa? c'hai già due centri dai vieni qua no allora se c'ho il centro non mi ricordo come ritardo eh me lo dici però dimmelo ma te l'ho detto sempre guardate qua guardate qua oh no oh no di tiri mi sto prendendo questa partita a bordo tutti però eh ci provo no 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 ma no è impossibile non lanciare ma lo sa che cazzo non devi lanciare ma la prossima il bonus guardiamoli più 20 proprio sfizio proprio sfizio non ci pensa eh sempre in anticipo eh poi gli forzo bella finita parto come le hai perso no 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 come le hai perso tene il più che può e poi f attacca ARIEL! A2! Screni tu, Marco! Vai, vai, screna tu!